Certo, le conferenze dei servizi sono dei tavoli tecnici dove ogni ente coinvolto viene chiamato a rispondere a una precisa domanda. In quella sede ci era stato chiesto se in base alla normativa regionale quel progetto doveva essere o no depositato al genio civile per il parere sismico. La legge regionale non lo prevede e abbiamo chiarito in quella sede che per la Regione questo deposito non deve avvenire perché si tratta di un'opera strategica di rilevanza nazionale, quindi statale e per questa ragione quindi su quell'aspetto la Regione non ha nulla da eccepire e quindi dà alla fine della riunione il proprio nulla osta alla prosecuzione del leader autorizzatorio. Il resto è solo propaganda fatta da partiti politici come il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle che hanno in mano il Governo nazionale e invece di andare a Sulmona a fomentare i cittadini e a raccontare falsità scaricando responsabilità politiche sulla Regione vadano in Parlamento a sfiduciare il loro Ministro perché questo progetto è sostenuto dal Governo, dall'attuale Ministro ed era sostenuto anche dai governi precedenti perché l'autorizzazione alla centrale di spinta che è l'elemento di maggiore criticità e quello più avversato da una parte appunto delle amministrazioni e dei cittadini di Sulmona è stato autorizzato dal Governo Gentiloni del Partito Democratico, quindi è ora di finirla con la propaganda e soprattutto con le strumentalizzazioni e le mistificazioni sulla pelle dei cittadini.